Musica Allora, dottor Gratteri, non si può dire di nuovo l'invito di Mario Caligiulo, la terza volta che lei viene qui a Soveria, in questa bellissima città dove si fa cultura, veramente. Lei stasera è stato stupendo, 360 gradi di cultura, di istruzione, abbiamo parlato di tutto, veramente eccezionale. Poi c'è questo grande libro che ha vinto il premio Cacuri, che è molto bello, è della Mondalore. Guardi, io vengo qui con piacere perché c'è molta accoglienza, molto calore e poi vedo molto interesse a conoscere e interagire. Ogni volta che vengo qui mi trovo, sto bene, è un piacere. E poi c'è la possibilità, ci sono molti stimoli ad approfondire, a soffermarsi, a riflettere. È stato bello il passaggio della cultura, dei giovani. All'università, quando lei insegna, la prima cosa è che cerca di sconsigliare i ragazzi a continuare l'università se non ci sono dei risultati. Sì, cerco di provocarli, di mettergli la corrente sotto la sedia, di scuoterli e dire e spiegare che l'università non è un parcheggio. L'università è una cosa seria, gli anni più belli della vita, gli anni della formazione sono proprio quelli e quindi bisogna cercare di capitalizzare il tempo. E allora dico ai ragazzi, se voi a maggio, giugno, luglio, oltre il 18-20 non andate, lasciate subito l'università, non perdete tempo, non state lì parcheggiati. Forse avete sbagliato la facoltà o forse non avete l'attitudine nello studio. Quindi cercate di imparare un mestiere, specializzatevi in mestieri rari, in mestieri dove non c'è concorrenza. Oppure se volete fare qualcosa di più importante, iscrivetevi ad esempio in Agraria, coltivate in modo intelligente, piantate primizie, specializzatevi. Andate nelle scuole, nell'università dove si insegna come si fa turismo, quindi non turismo predatorio, ma un turismo che faccia accoglienza. E allora la Calabria ha bisogno di questo, ha bisogno di ragazzi intelligenti, giovani, ma istruiti a fare turismo dell'accoglienza, non turismo predatorio. E soprattutto l'agricoltura, fare agricoltura in modo intelligente. Noi abbiamo un clima favorevole dove le primizie maturano 20 giorni prima rispetto a Campania, a Lazio. E allora approfittiamo di questa opportunità e cerchiamo di essere competitivi perché noi quando vogliamo, quando riusciamo a togliere dalla testa, quando riusciamo a togliere noi calabresi dalla testa l'idea dell'assistenzialismo e perdiamo le speranze che ci sia la manna dal cielo, che ci sia l'assistenzialismo, noi gli diamo il meglio di noi stessi, siamo intelligenti, siamo capaci e riusciamo ad emergere. Procuratore, lei da quando è procuratore di Catanzaro ha dato una svolta, possiamo dire, alla criminalità, nel senso che ha assicurato la giustizia a parecchie case, anche pesanti, l'ha elencati prima durante il suo intervento. Lei diceva prima era tutto un po' dal niente, da quando arriva lei è stata una sveglia? Il mio compito è stato quello intanto di trasmettere ai giovani magistrati la consapevolezza della loro capacità, la consapevolezza che loro sono capaci, bravi e che possono farcela. Quindi ho caricato, oltre ai miei colleghi, anche la Polizia Giudiziaria. Abbiamo avuto molti ricambi, molti innesti, con tanta gente di qualità e i risultati penso incominciano a vedersi. Quindi sono leggermente fiducioso per il futuro per quanto riguarda il contrasto, ma il mio sogno sarebbe quello di avere un sistema giudiziario diverso per poter incidere veramente e in modo determinante sulla presenza e sull'invasività delle mafie. Alla Mezzia lei ha 170 arresti in un anno, se non di più, 174 arresti in un anno. Grandi risultati. Riusciremo a sconvincere totalmente il malaffare della Mezzia? Totalmente no, però possiamo abbattere ancora di più la presenza e la perività delle mafie sulla Mezzia. La cosa che mi è dispiaciuto, che mi ha sorpreso negativamente, è che subito dopo questa ondata di arresti non ho visto, mi aspettavo qualche cittadino in più, mi aspettavo qualche commerciante che venisse a bussare per denunciare. Vuol dire che ancora non siamo credibili, vuol dire che ancora non abbiamo raggiunto quel grado di affidabilità della quale c'è bisogno perché la gente venga a denunciare da noi. Grazie. Grazie. Grazie.